Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono da poco rientrato dalla visione di un anime L'anime in questione è bella, ma non è né dell'anime ed è della sua trama di cui voglio parlare La riflessione di oggi nasce dal fatto che guardando quell'anime mi sono ricordato anche degli altri cartoni Della mia infanzia, come appunto La Bella e la Bestia, da cui trae molta ispirazione E Aladdin E tutti questi, diciamo, cartoni e anime hanno in comune la stessa identica cosa Cioè la questione che riguarda l'identità Cioè l'identità che una persona nasconde, nel caso di Aladdin L'identità che viene rubata, nel caso della Bella e la Bestia L'identità che viene camuffata, nel caso di Belle A volte l'identità serve per manifestare ed esprimere realmente noi stessi Quindi assumiamo un aspetto, o ci camuffiamo per esprimere meglio noi stessi O altre volte invece ci nascondiamo per nascondere in realtà quello che siamo Ma ne parliamo meglio dopo la sigla Pronti? Chi è che siamo? Qual è la nostra identità? La faccia che vi diamo allo specchio quando ci alziamo al mattino? Oppure è l'impressione che lasciamo sulle persone che ci circondano? Mi risponderebbe Pirandello che sono entrambe le cose Perché tutti siamo uno, nessuno e centomila Ed effettivamente ha ragione Se ci andiamo a riflettere ognuno di noi ha un aspetto E un modo di essere visto diverso che varia da persona a persona Ed varia molto anche rispetto alla percezione che noi abbiamo di noi stessi E che cosa significa questa cosa? Beh, significa semplicemente che ogni persona è molto molto variegata Ogni persona è un intero universo da scoprire E quindi ha diversi aspetti Io molto spesso, e chi mi conosce di persona lo sa, mi paragono le persone ai dadi Se ci pensate un dado ha diverse facce E ogni faccia però fa comunque, per quanto abbia un valore diverso, parte dello stesso dado Se noi lanciamo un dado, questo ci mostrerà un unico aspetto, una sola faccia E non tutte quante assieme Beh, la stessa cosa vale per le persone Le persone sono proprio come questo dato, hanno diversi aspetti Ma noi non riusciamo a conoscerle in una sola volta per tutti gli aspetti che hanno Ma possiamo conoscerle solo per un aspetto ogni volta Quindi conoscere un po' più approfonditamente una persona richiede tempo E non è detto che riusciamo a conoscerla del tutto Ci sarà sempre un lato che ad esempio è poggiato sul tavolo Quindi ci sarà sempre un lato nascosto E ci vorrà veramente tanto per tenere fuori quel lato nascosto E allo stesso modo vale per noi Anche noi abbiamo diversi nostri aspetti Qualcuno ci conoscerà come il collega di lavoro Qualcuno ci conoscerà come il fidanzato o la fidanzata Marito, moglie Qualcuno ci conoscerà come la mamma o il papà Qualcuno ci conoscerà ad esempio come il dentista O per altre funzioni Molto spesso le persone ci conoscono per la funzione che svolgiamo nella nostra società Per il nostro lavoro Per il legame familiare E noi siamo effettivamente tutte queste cose Ma allo stesso tempo probabilmente nessuno di queste rispecchia Il modo in cui noi vediamo noi stessi Perché è un insieme di tutte quante E se vogliamo fare in modo che gli altri abbiano una percezione un po' più ampia di noi stessi Soprattutto abbiano voglia di scoprire di più E anche di capirci veramente La cosa che vi posso consigliare è quella di essere il più genuini possibili Cioè evitare di nascondervi O meglio, non mi sto dicendo di non mettere delle maschere in base alle situazioni O ad esempio se ci pensate un po' di tempo fa c'era internet C'era il nickname e attraverso il nickname ci si poteva esprimere molto più liberamente Quindi non è che vi dico di non trovare dei modi per esprimermi al vostro meglio Però quello che vi posso consigliare è quello di esprimervi in maniera autentica E circondarvi di persone che hanno voglia di scoprire diversi aspetti di voi Nello stesso modo circondatevi di persone con cui condividete dei valori E delle quali volete conoscere diversi aspetti Perché solamente così la comunicazione non sarà mai perfetta Perché la comunicazione è praticamente impossibile che sia perfetta Però ci sarà Cioè nel senso richiederà tempo, ci vorrà tanto tempo Però si stavoreranno dei rapporti E le comunicazioni permetteranno di scoprire sempre di più Di interagire sempre in modo migliore Di capire chi vogliamo mantenere più vicino a noi E chi invece vogliamo allontanare Perché in realtà si discossa troppo dai nostri valori E se mi concedete l'esempio che vi ho fatto all'inizio Aladdin rimane sempre Aladdin Il principe matura e mostra quello che è veramente E nell'anime, beh, questo non ve lo dico La stessa cosa vale per voi Voi potete assumere qualsiasi ruolo Ma rimanete sempre voi stessi I vostri valori La radice che è insida dentro di voi Quello in cui credete Quello che manifestate Non sono nient'altro che tante emanazioni Della stessa unica identica persona Che siete voi Voi siete uno E tutto quello che gli altri riescono a vedere È solamente una piccola emanazione di quell'uno Un po' come i raggi del sole, no? Il sole è sempre quello Però lo percepiamo in maniera diversa A seconda delle stagioni Siete un'unica entità Non fatevi fregare da questa cosa Forse non riuscirete a mantenere rapporti perfetti con tutti E forse non dovreste neanche mantenere rapporti perfetti con tutti Però avete la vostra identità Ultimo consiglio che vi posso dare Per fare in modo che la percezione che hanno di voi Sovigli sempre di più alla identità che avete qui E soprattutto se volete che l'identità che avete qui Rispecchi quello che volete essere Datevi da fare Siate autentici E condividete quanto più è possibile Le parti che Diciamo vi appartengono Con gli altri E assimilate anche dagli altri C'è un detto che dice che ognuno può essere un insegnante in qualcosa Almeno in una singola cosa Ognuno può darvi un insegnamento E in quell'insegnamento potete imparare a migliorare E a maturare E questo è quello che io mi auguro Per me stesso E per voi Ragazzi se avete voglia di scrivere qualche commento Per quanto riguarda appunto l'identità Il manifestarsi dell'identità Soprattutto adesso che si sta parlando di metaversi Quindi proprio come nell'anime Oppure nel film Ready Player One Potremmo avere un aspetto che rispecchia Quelle che sono le nostre idee Oppure quello che è Diciamo il nostro mero essere Beh il mondo potrebbe diventare curioso E anche molto molto interessante Quindi scrivetemi che cosa ne pensate Scrivetemi quali sono le vostre idee Le vostre riflessioni potrebbero essere spunto Per una chiacchierata Se questo video vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale E condividetevi con i vostri amici Come se vi va Ci vedremo nel prossimo See you next Ciao! Ciao! Ciao!